brava ok bravissima brava qui si è un po' tesa eccolo qua buongiorno a tutti oggi siamo in compagnia di Giulia e faremo un bel video di trattamento osteopatico girati verso la finestra Giulia che ti spiazzo in due come ci dice allora fai sport? sì cosa fai? palestra, salatemi ok tennis, tipo di tutto ok, una bella sportiva lavori, studi? sì, entrambi ok, cosa fai? studi economia e lavora in azienda ah quante anni hai? ventuno quindi sei al secondo anno terzo anno non ti fai mai scaricare la colonna, vero? no eh, si sente allora mettiti seduta qui al centro del lettino facciamo i test sulla forza vediamo come sei messa partiamo con mani sulle spalle spingi in alto la coscia stop spingi questa stop con la gamba spingi verso la scrivania stop vai stop molto bene spingi verso l'alto spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro brava tranquilla la forza è buona allora vediamo neanche massaggi deve fare giusto? oltre ne sblocchi nei massaggi pochi male se schiaccio così? no male se schiaccio così? no gira il collo a destra dimmi cosa vedi di me mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla viso? tutto tutto? gira a sinistra ti sposto i capelli ok quindi la rotazione va bene sei un po' deta sul collo ma direi che è gestibile dico la gamba in questa direzione qua vai stop di là stop ora dentro alto quindi così sempre gamba dritta aspetta 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 così vai spingi in là spingi in su bene per ora sei promossa per ora braccio dritto spingi verso il muro questo mica tanto eh spingi verso l'interno questo neanche ti alleni in maniera equilibrata fai molto più basso che alto più basso si spingi là quante volte vai a settimana? tre ok spingi dentro ancora il braccio così pollice così spingi verso quest'osso vai ruota il collo di là così spingi ok tre bei respironi bocca aperta brava vai vai perfetto morbida morbida gira il collo a sinistra gira il collo a destra ok inclina a sinistra quindi orecchio sinistro vicino alla spalla sinistra così guarda torna al centro così fai l'opposto un po' più in qua così e così eccolo qua allora giù sì allora la prima volta è un po' traumatico nel senso che fa un po' paura e rumore ma vedrai che non senti niente anzi poi diventa una droga sei pronta sei pronta vado sono picchia molle molle giù molle 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 sposto di cappelli che ok giù molle brava non ti sei neanche tesa bravissima ce n'è un'altra qui stai molle bravissima ok allora vieni leggermente più in qua spalla spalla gomito gomito morbida anche qui sentirei rumore non spaventarti inspira fuori eccolo qua poi seduta tieni tutta vicino al bordo del lettino metti le mani intrecciate così le metti dietro la testa poi giù la gamba chiudi i gomiti piegano avanti fuori lasciati cadere in giù eccola c'è tutto da rifare gira sul fianco di qui brava allora un braccio qui una gamba piegata adesso ti sentirai cadere ma non cadi gomito gomito testa così giù 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 lascia molle bravissima mi fai un bel respirone e fuori l'aria brava sinistro facciamo la stessa cosa vieni più vicina stop uno due tre così e gomito gomito ispira fuori ok ti rimetto a nuovo cominciamo a ragionare ora spingi di là vedi che ora è meglio ho sentito che roba con le molle con le molle perfetto fammi un respirone fuori l'aria un respirone fuori l'aria seduta gambe di là allora mano sui fianchi così un po' più in alto quando te lo dico io mi dai una gomitata più veloce che puoi come se dovessi picchiarmi verso l'indietro vai brava vai perfetta passo rimettendo pezzo per pezzo apposta ok braccia dritte spingi su spingi giù spingi fuori spingi dentro molto meglio molto bene allora consigli non te ne do se non di fare stretching quello che dico un po' a tutti i pazienti perché il vizio è sempre che la parte davanti muscolare è sempre più corta infatti tutti andiamo avanti con le spalle e automaticamente dietro la parte è tesa se noi allunghiamo il davanti le spalle se ne vanno indietro e tu sei bella dritta così quindi fai un po' di stretching allunga tutta la parte davanti poi basta il corpo è buono era solo un po' bloccato ma niente di eclatante quindi Giulia promossa che voto gli diamo? diamo un bel 8 dai 10 non si dà mai no brava hai capito tutto qui sei un po' tesa facciamo rilassare con un bel massaggio va bene senti domani sarà un po' infastidita lascia passare un 2-3 giorni vedrai che sentirai poi il beneficio del trattamento va bene grazie Giulia allora mettiti in piedi poi guarda me di qua dimmi se hai dei fastidi particolari se hai dei dolori particolari in questo momento dolori particolari no ogni tanto mi danno un fastidio un po' alle spalle ok senti tensioni durante la giornata? magari quando sto tanto saluto la scrivania un po' al collo ma apri questo ok che lavoro fai? sto facendo tirocinio sto stendendo le tecnologie del farmaco bellissimo tosto abbastanza ok sono la parte del collo un po' che si arriva qua dietro mettiti seduta vediamo se hai una buona forza braccia dritte guarda me spingi forte in alto spingi forte in basso spingi fuori spingi dentro fai sport facevo sport prima giocavo a quel lavoro all'inizio agonistico adesso ho smesso da quando c'è stato il covid però ok continuo a rilarmi un pochino da sola due o tre volte a settimana un pochino di più qui? sì più qui o più qui? più di là più a destra più qui? sì o più qui? più di qui ma mi fa male anche di là ok più qui o più qui? no io ho troppo male più qui o più qui? a sinistra ok più qui o più qui? ma è entrante ok basta questa è la parte più fastidiosa del trattamento il resto è è più gestibile gira 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 hai dolore? no già stai scrocchiettando un po' senza neanche toccare è fantastico vedete che sei bloccatissima allora mettiti a pancia in su ok questa bella morbida con la gamba brava hai dolore e fastidio? no piega neanche così no giù piega giù braccio su anche l'altro gira internamente spingi verso dentro ok giù mi fai un bel respiro e una bocca aperta vai fuori di nuovo fuori buono guarda come di qua non riesco più ad andare qua c'è un bel blocco biomeccanico nausea? mai? no allora vi toglierai direttamente questo poi vediamo un attimino un'altra cosa qua ti faccio male? no non troppo male qua ti faccio male? sì un po' di più ok se comprimo qui questo scende uguale? scende ok allora metti due dita qui stai bella morbida senti crack non spaventarti molle molle ok c'è un altro ok vuoi dolore? è sceso ok mettiti un secondo seduta come eri prima quindi con le gambe di qua stai super morbida pancia su sei croccante ok queste spalle in avanti vanno corrette sei proprio in avanti con accorciamento del pettorale il paolo di esercizi lo corregi tranquillamente dovrei essere un po' costante quello sicuramente però se ci metti di impegno lo corregiamo allora vieni un po' più qua sulla testa a me prova inspira fuori ecco qua vieni seduta gambe dritte vieni più vicino a me vieni 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 stop mani incrociate dietro la testa brava chiudi i gomiti piegati tutta in avanti stop inspira lasciati cadere in giù fuori l'aria eccole qua giù sei un cracker una schiacciatina parola chiave nei commenti di oggi schiacciatina braccio su braccio su dritta bene spingi verso l'interno ok ora vieni sul fianco verso di me calmato il bottone un braccio qui piegami la gamba sopra raddrizza la gamba sotto gomito gomito testa rivolta verso l'alto super morbida brava inspira fuori fianco destro ok brava anche il ginocchio è partito inspira fuori ok quando non so di notte ti svegli con una mano stanche intorquidita dormi a pancia in giù no sul fianco ok braccio alto braccio basso no diciamo a covecciato ok esatto vabbè così te lo posso abbonare basta che non alzi il braccio e basta che non dormi a pancia in giù se schiaccio qua ti faccio male no qui no qui qui un po' un po' hai un po' le caviglie bloccate si te l'hanno già detto sapevi già si 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 fuori di nuovo fuori ok allora vieni leggermente più in qua e metti questa mano dietro al collo bravissima stai bella morbida anche qua se senti rumore non preoccuparti inspira fuori l'aria eccolo inspira fuori l'aria ok anche il braccio è bello rigido c'è qualcosa di vero no per ora no per ora siamo bocciatissimi allora mettiti a pancia in giù come sei più comoda tu ok questo non è piacevolissimo qua è dolore si qua è dolore meno qui è dolore no qui è dolore no ok ha mollato bene seduta pollice bravissima un po' più su rilassa le spalle ora quando te lo dico io mi dai una bella limitata all'indietro deve essere un colpo velocissimo vai bravissima vai ok questa è buona giù allora rilassiamo un po' le spalle vedi che adesso sei più indietro sei vedi che sei già più dritta l'unica cosa è che qua se non mi fai degli allungamenti sul pettorale ti torna tutto come prima dobbiamo proprio correggere devi stare così non provare neanche a farlo forzatamente nel senso quando ti senti storta si puoi dire ma devo stare più dritta tiro inietro le spalle ma l'altro non funziona no e io devo fare esercizio per allungare davanti funziona in bicicletta eh brava tipo 10 secondi e poi esatto poi mi stai esattamente non è piacevolissimo questo vero? non è piacevolissimo ma non è piacevolissimo ma non è piacevolissimo ma non è più anche se guarda sì ok ok Anche le dita è incostato. Niente. Quante ne hai? 23. Ok. In realtà ne hai 82. Ok. Allora, fai una camminata, una passare davanti e indietro. Dimmi se hai passati particolari. Ok, seduta. Rivediamo la forza. E abbiamo finito. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Molto bene. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Il tuo corpo funziona molto bene. Era solo un po' ingrippato.